Buongiorno, siamo di nuovo al secondo video di Francesco Paoli, il mio nome è così. Allora, l'altra volta vi ho studiato con i pocketbox unionali, oggi ho ancora con i busineggiò, no, scatolini, l'altra volta avevamo tutta una bugia. Allora, vediamo in questa. In questa, oh, tre cose, non lo sapevo, non lo sapevo. Allora, fai vedere, questo è il cannone, no, è un alieno, però è così, lo mettiamo sempre in questo scatolino, così. Poi questa nave, e lo mettiamo qui, e quest'aereo, che forza anche quest'aereo c'ho dell'altra volta. Adesso, questo lo mettiamo qui, perché dopo dobbiamo seguire il libertino, che è questo, che dentro ci sono tutte le... Ecco, tutte le forze schierate, e quindi noi dovevamo mettere il libertino per mettergli bene. E questo lo facciamo qui. Dopo vediamo anche lo scufondo. Adesso, ah, bello, un alieno, come prima, però questo invece sono busine due. E' così, una navicella, lo mettiamo qui. E poi, mi sembra che la navicella ancora già ce l'ho. E questo? E meno me che ce ne ho due, perché io gioco sempre con questi. E li mettiamo qui. Adesso in questo. Ah, in questo. Oh no, io ce ne ho tre di questi. Una nave, così. E questa lì era così. Di questi ce ne ho due, adesso ce ne ho tre, di questi ce ne ho tre, adesso so quattro. E li mettiamo qui. Quindi è impossibile che non c'erano tutti i pioni. E questa? Questa nave mi sembra che non ce l'ho. Oppure ce l'ho? Non capisco. Comunque, è una nave. Così. Vedi questi sfondi così? Bellissima. L'aereo. Che è quello che vola, mi sembra che già mi uscito uno prima. E quindi ce ne avevo quattro. Adesso ce ne ho quattro. Adesso sì. Ah, forte. Oh no, ce ne ho cinque di aereo adesso. E c'è un aereo, un altro euro. E un'altra nave che mi ha messito l'altra volta, è così. Dopo sarà bello. Ecco. L'ultima. Oh no. Cinque di questi e quattro di questi. Comunque ve li faccio vedere. Questo è il doppione. Il doppione, peccato esco. E questo. L'altra busta. L'altra nave. Mi sembra che servono ancora le altre cose. Vado a prendere. Mi sembra. Allora. L'ultima bustina è formata. Un'altra volta questa. E' solo sei. Un'altra volta questa. E' solo sette. Però mi è uscito questo. E' il super cannonino. E' già gelo. E' poi... E' poi... Aspetta. Vediamo. C'è... Oh no. Questo, sai? Sono tre di questi. Due di questi. E adesso dobbiamo... ho chiuso tutti i busti. E' il scatolino. Dobbiamo vedere il librettino e metterli in ordine. E' il piole. Io più li metto. Qui, mamma con tutto ciò che mi metto in pausa. E dove sta qui? Allora. Oh no. E dove sta l'altro? Allora, forse ho un schiato lì. Allora. Comunque. Questa non è la prima. No, è la prima. No, questa è la seconda. Quindi la mettiamo qui. Che qua mettiamo la prima. E questa è fatta. Metteremo tutti gli sfondi dopo. Quindi in questa. Questa. Ah, sta vicino a questa. Ah, è un aereo? Vabbè, dopo. Aspetta che sia. Pausa, pausa.